Il tesoro più grande, come gli italiani pensano, tutela e valorizzano il patrimonio culturale è il volume presentato al Senato pubblicato dalla Fondazione Enzo Rubi, uno studio che contiene i risultati della ricerca demoscopica sulla percezione degli italiani del tesoro artistico del Paese, un patrimonio che conta oltre 4.500 musei, 12.900 biblioteche e 54 siti UNESCO, Roma, la città d'arte preferita in assoluto.